Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, bentrovati o bentornati o benvenuti sul mio canale, sul canale della Ely. Mi vedete un po' sbattutina perché mi sono truccata poco, perché in questi giorni ho avuto una reazione un po' particolare ad un occhio, come se avessi preso un pugno in un occhio, mi fa malissimo, sto mettendo una crema antibiotica e ho cercato anche di non mettere tanto fondotinta e polvere in giro per far sì che non si irritasse. Spero solo che sia un colpo d'aria, che è quello che presumo, visto le temperature e gli sbalzi di questi giorni e quindi niente, sono senza trucco e mi vedete quasi nature, ma questa è la vita vera e io ve la racconto sempre tra un video e l'altro e quindi niente, mi vedete così. Oggi volevo fare un altro tipo di video, volevo farvi vedere dei prodottini che ho acquistato, ma oggi ho ricevuto, inaspettatamente no, nel senso che sapevo che me l'aveva spedito, però non sapevo che arrivava oggi e la mia giornata non era cominciata tanto bene, un pacchetto, un paccone che mi ha davvero svoltato la giornata. Quando i regali inaspettati di amiche che ho conosciuto su YouTube ti cambiano la giornata e ti regalano tanta felicità. Quindi vedremo insieme, faremo insieme un puro spacchettamento di profumi, prodotti per il corpo, prodotti per il viso che mi sono stati regalati da due amiche. La prima amica è Greta di MissGretaTop, un canale che se non conoscete secondo me vale la pena di seguire. E poi c'è la Vale Valentina che ha il canale La Vale Review. Perché vi dico di seguirle? Perché se anche voi apprezzate come me delle persone vere che raccontano così, quello che gli piace fare, la Greta è appassionata ed è veramente molto 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 brava la Greta, cioè alla Lombarda. La Greta è bravissima nel raccontare i profumi, dà un sacco di consigli, è molto pericolosa ed ha anche aperto quel gruppo che vi dicevo al quale mi sono iscritta e poi vi lascio tutto nell'info box. E la Vale l'ho conosciuta davvero quasi all'inizio del mio canale. È una ragazza molto molto giovane, molto molto carina, potrebbe essere mia figlia quasi dall'età più o meno. Se avessi avuto un figlio sui vent'anni, secondo me quasi ci siamo. E nulla, ci siamo conosciute, siamo andate subito d'accordo, ci siamo sentite in empatia, ci sentiamo a volte anche al di fuori del canale. Io ho cominciato a seguirla, il suo è un canale piccolo piccolo, anche perché poi ad un certo punto ho avuto un bambino, quindi ha dovuto interrompere di fare ovviamente i video, perché il tempo, si sa, di una mamma è sempre tutto dedicato al suo piccolo. Adesso pian pianino sta ritornando e quindi noi siamo rimasti in contatto e lei ha voluto mandarmi dei prodotti, dei prodotti da provare che pensavo fossero adatti a me, li ha pensati per me, di un po' di tutti i tipi, insomma, di quello che lei pensava che a me facesse piacere. E vi devo dire che dalla sbirciata che ho dato al pacco mi fanno veramente molto molto piacere, sono prodotti che sicuramente io userò. Ci sono tanti prodotti di Yves Rocher, perché Vale è a casa a fare la mamma, ma giustamente con qualche lavoretto vuole cercare di guadagnare qualcosina. E quindi è consigliera di Yves Rocher, io ho già fatto un ordine cospicuo da lei, mi sono trovata bene, perché poi posso chiedere consiglio, ci conosciamo, quindi lei è davvero molto sincera e molto obiettiva sui prodotti di Yves Rocher, e mi sa dare dei buoni consigli e anche per sostenerla, perché sono stata mamma anch'io, io ho sempre lavorato, anche se soltanto mezza giornata, e so bene che a volte è piacevole fare qualcosa di diverso nel fare la mamma, anche se si amano i propri figli e si farebbe di tutto per loro, però così anche per fare qualcosina che ci tenga occupati e che ci faccia guadagnare, perché no, anche qualche soldino. Quindi se vi interessa anche magari fare degli acquisti di Yves Rocher, magari vi potete affidare a lei, lei abita nel Bresciano, e vi dirò anche a Chiari. Quindi se c'è gente che magari da quelle parti e vuole fare un ordine di Yves Rocher, anche andandolo a ritirare personalmente, oppure lei chiaramente vi inserisce nel suo organico di clienti, voi fate l'ordine online e poi dopo vi ricevete tutto a casa. L'ordine di Yves Rocher ve lo farò vedere la prossima volta, adesso così spacchettiamo insieme tutte queste meraviglie. Allora, cominciamo dai prodotti che mi ha regalato Greta. Sono tre profumini che lei non usava e che non erano nelle sue corde, conoscendomi ha pensato bene che a me potessero piacere ed ha avuto ragione. Quindi ve li faccio proprio vedere così, non li ho ancora testati per bene, perché ultimamente ci sono tanti profumi che stanno entrando in questa camera hobby, pian piano sapete che io i profumi non ve li faccio vedere subito quando li acquisto, perché li voglio proprio provare. Poi ve li descrivo alla mia maniera, molto ruspante, molto casalinga, e non è che io sia una professionista, però mi piace raccontarvi qualcosina dei profumi, magari il ricordo che mi hanno evocato, così insomma, li voglio provare. Il primo profumo, cioè sono tutti profumi di Primor, che io non sapevo neanche cosa fosse. È un grande, tra virgolette, supermercato dove ci sono tutti i prodotti profumi, make-up, skin care e quant'altro. Io non ne ho mai visto neanche uno, qui a Lecco, ma figuriamoci se per misericordia esiste qualcosa, non so se a Milano ci sono, probabilmente a Milano ci sono, perché la Greta è di Milano e quindi li ha comprati lì. Mi piacerebbe andare a vedere questo paradiso per le signore che amano i profumi e tutto quanto concerne la cosmetica e il make-up. Ma ci andrò, ci andrò. Milano non è lontana da Lecco, devo solo trovare il tempo di arrivarci. E niente, il primo profumino che mi ha regalato è Peach Bouquet. Spruzziamo. Un profumo, sì, sa di pesca, leggermente dolce ma anche fiorito. Poi avremo modo di parlarne, perché secondo me questo profumino e anche gli altri che mi ha regalato sono perfetti per la primavera e per l'estate. Questa primavera che non è così calda e assolata ci permette di provare anche dei profumi che sono magari dei fioriti non proprio così leggeri, ariosi, azzurri, salini. Poi l'altro è Wild Passion. Eccolo qui, un colore leggermente aranciato. Che buono. Anche questo. Io non so assolutamente le note, non sono neanche andata a guardarle, perché appunto poi questa è una cosa che farò poi, anche perché mi sto allenando adesso a provare i profumi senza andare a vedere nulla delle note. Mi scrivo su un fogliettino e poi vedo se ho indovinato. Così intanto alleno il naso per giocare. Questo è molto volubile. Questo è molto più persistente. Si sente molto di più questo. Questo è veramente molto leggero. All'inizio avete una... così... intensità che poi si affievolisce quasi subito. Ma poco importa perché poi d'estate vanno benissimo anche questi profumini. E questi sono i primi due. Wild Passion e Peach Bouquet. E poi mi ha regalato questa piccola meraviglia che si chiama Rose Blush che è molto rose. Guardate, tra l'altro, la confezione è veramente molto molto carina. Questo lo spruzziamo così sentiamo. Mmm! Che buono! Si sente anche il profumo del gambo della rosa quando recidete con la cesoia io ho delle rose in giardino. Sembra proprio che si senta... Mmm! Buonissimo! E niente. E questi sono i tre profumi che la Greta gentilmente mi ha donato per farmi una piccola sorpresa ma la cosa più particolare è questo rossetto che è un rossetto marocchino che ha questo colore arancione bello vivido ma è quello che io ho sulle labbra. Io da lì a qua non vedo una cippa ma lo vedo, l'ho visto nel mio specchio è abbastanza un rosato scuro ed è un rossetto che è uno spettacolo è quasi un lucida labbra è morbidissimo vi sembra di avere un burro leggero e nutriente sulle labbra che cambia colore in base al vostro pH infatti adesso io vi faccio vedere qui ecco qua sulla pelle della mano vedete? è bellissimo e lo metto davvero con molto molto piacere perché vi lascia le labbra morbidissime non ha profumo è uno spettacolo quindi ringrazio ancora anche se l'ho fatto personalmente Greta perché perché non è facile regalare i profumi io per esempio non li regalo mai i miei ma neanche se non mi piacciono ce ne sono pochi che non mi piacciono ma poi magari cerco anche di utilizzarli in altro modo però non li regalo invece lei è stata veramente generosissima e molto 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 carina grazie Greta per queste meraviglie che bello che anche tramite internet e tutto quello che è i social si vengono a creare comunque queste amicizie vere perché sono vere anche se non ci si conosce fisicamente e e dove si trova quell'empatia che magari non con tutte le persone si trova sono davvero molto molto contenta di questa cosa e adesso veniamo al nostro scatolone è bello grande ragazzi è bello grande allora qui ho chiaramente un bigliettino che accompagnava il pacco e ti ringrazio davvero tanto per quello che hai scritto vale e poi cominciamo con questo sacchettino che contiene degli orecchini lei sa il mio amore per gli orecchini guardate che belli watch questi sono pendenti questi sopra sono pendenti a forma di fiore vedete e questi invece sono a buco perché dietro hanno la farfallina e sono così molto belli molto estivi con questo azzurro che è uno dei miei colori preferiti bellissimi 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 e adesso scopriamo un po' che cosa c'è in questo pacchetto allora abbiamo un aroma shower cream della Sien che ho provato e mi piace mi piace è una buona profumazione abbastanza delicata non forte e questo è il bagno schiuma poi abbiamo la body lotion e abbiamo la crema per le mani sempre della stessa linea questi sono della Lidl e sicuramente li metteremo in uso avevo forse io avevo preso le maschere per il viso ve le avevo forse anche recensite se non ricordo male poi 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 abbiamo a random peschiamo questo gel doccia è scritto in francese e io non lo so 87% di ingredienti naturale flacone in plastica riciclata al 100% ed è di chiotis presumo che si dica così questo però sentiamo il profumo perché mi sembra davvero molto estivo è meraviglioso oh che meraviglia un profumo fresco delicato buonissimo questo lo metteremo subito in uso perché questo va bene anche al Mauri bellissimo 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 grazie poi poi abbiamo questo qua un gommage per il corpo della Yves Rocher alga savage e christy marine che non so che cosa sia vediamo se è scritto in italiano ma io non ci vedo tra l'altro mi fa male anche l'occhio mamma mia vediamo 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 ah ecco qua allora gommage corpo in gel con alga selvatica e finocchio marino buono mi piace il profumo del finocchio non so se però il finocchio marino è uguale al finocchio verdura quel profumo un po' aniciato bello 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 mi piace anche tantissimo il pack ma Yves Rocher mi piace tantissimo sempre per i pack poi abbiamo un mamma mia non ci vedo ragazzi sempre un bagno doccia alici giuvré oh mamma qui proprio non si vede niente allora risciacquare bagno doccia frozen al lici vuol dire che è fresco potrebbe essere congelante quindi è perfetto per l'estate per i 40 gradi che ci aspettano nelle prossime settimane perché sarà sicuramente così ragazzi cioè il tempo adesso fa così ma poi tra due settimane io sarò qui e lo so e voi me lo direte a lamentarmi per il caldo quindi se questo è frozen e vuol dire freddo frozen vuol dire freddo non lo so lo proveremo molto molto volentieri poi 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 abbiamo ah beh surlaland gel doccia e surlaland io ho il profumo e mi piace tantissimo è una profumazione buonissima e si infatti è proprio la profumazione del profumo ottimo 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 mi piace un sacco poi questi qua me li ruberanno i ragazzi lo so già però questi li nascondo buonissimi poi cosa abbiamo abbiamo un latte corpo energizzante sempre della stessa linea di questo e anche qua ci dovrebbe essere scritto in italiano vediamo se ce la facciamo latte corpo l'alga selvatica e finocchio marino esatto ah quello ho sentito il profumo no però sentiamo questo di profumo tanto poi li usiamo allora un profumo delicato facciamo che chiediamole via un pochino da qua delicatissimo il profumo vediamo se qua sentiamo qualcosa no proprio delicato delicato non riesco quasi neanche a percepirlo ma che morbidezza piacevolissimo poi ci avevo spruzzato il profumo quindi non riesco a sentirlo bello bello bellissimi questi pack poi che cosa abbiamo abbiamo ah beh caspita ha fatto il completo una crema a mani idratante ottimo perché io le creme a mani le uso tantissimo e poi un piccolo campioncino di balsamo dopo barba viso questo lo regalerò o al mattia o al mauri dopo barba vuol dire che profuma sì 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 profuma poi sapremo cosa ne pensano gli uomini di casa poi abbiamo un campioncino di crema intensa e rigenerante molto ricca questi campioncini qua sono sempre molto comodi per quando si va in vacanza io vado una volta sola in vacanza una settimana all'anno però anzi dovrò anche iniziare a utilizzare i campioni che ho in giro perché sono tanti e poi alla fine rimangono lì in esposizione nel pacco c'è anche questa che è un'acqua pura alla rosa questa l'avevo provata mi ricordo ma non mi ricordo altro provo così tante cose che poi alla fine mi dimentico però sicuramente se non mi fosse piaciuta me lo sarei ricordato quindi andiamo quasi sul sicuro poi mi ha dato questi due campioncini che tra l'altro io ho già ricomprato perché per me questa linea è la miglior linea di shampoo balsamo e io ho anche una maschera per chi ha i capelli decolorati o meglio per me e per la mia decolorazione perché l'Elvive che avevo comprato l'ho provato è ottimo ma alcune volte se lo lascio su anche soltanto un secondo in più mi lascia i capelli troppo tonalizzati sul grigio scuro per non dire azzurro poi va via il lavaggio dopo però questi sono favolosi io li uso in doccia se i capelli li lavo tre volte a settimana una volta sì e una volta no lasciano i capelli non blu non grigi di un bianco pulito freddo stupendo per me sono i migliori che io al momento abbia provato anche se ce ne sono tanti che sono buoni questi per me infatti volevo farvi un video sui prodotti capelli che sto utilizzando e che mi stanno piacendo e ci sono proprio questi due prodotti sono una bomba adesso hanno cambiato anche il pack sto guardando se ho qui ho lì il pacchetto questo dovrebbe essere il pack nuovo io mi pare di avere quello vecchio ma sono veramente veramente stupendi ottimi 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 per il mio capello decolorato poi abbiamo un altro campioncino di botanical balm di questa linea che non conosco e poi abbiamo questi campioncini di profumo sapete che io li utilizzo tanto e quando poi li provo la salviettina la metto negli armadi nel mio comò dove ci sono i vestiti così profumano anche la biancheria allora io il francese non lo so quindi vi faccio vedere facciamo un film muto questo questo che mi ispira che ci sia dentro il cacao o il cioccolato questo molto estivo anche dal colore questo molto marino a mio parere questo secondo me molto elegante e questo che ho il queer denuit molto molto buono legnoso speziato intenso molto molto buono e poi questi due piccoli flaconcini meravigliosi che se non ricordo male mi ha detto che ho trovato all'eurospin nel mio eurospin queste meraviglie non ci sono facciamoci una spruzzatina così capiamo che bello che bello erogatore è vero la vale mi ha scritto che secondo lei sanno di profumo già sentito anch'io ma non riesco a capire che profumo sia anche perché io non sono esperta bello molto fresco fruttato buono 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 e questo ah non vi ho detto il nome oh mamma mia che pessima youtubers allora aspettate che io non ci vedo ragazzi dream kissed baci sogni di baci non so dream sto dicendo una stupidata può essere fa niente ormai chi mi segue lo sa e questo ma che bellissimo erogatore questo un po' più dolcino dream pinky eau de parfum questi sono anche molto carini secondo me da portarsi in borsetta in ufficio per darsi una rinfrescata ebbene questi sono tutti i miei regali inaspettati che mi hanno davvero resa molto molto felice ho voluto pazienza è caduto tutto ho voluto condividerli con voi adesso ripongo tutto metto via tutto ma vi sono dimenticata di darvi una notizia bellissima ieri è nato Mattias il figlio di quella coppia di nostri amici cileni che sono venute ad abitare due anni fa dal Cile perché il marito per lavoro doveva fare un master qui in Italia e noi siamo vicini di casa quindi siamo un po' come se fossimo i loro genitori purtroppo perché loro sono molto giovani e noi invece no e quindi ci siamo affezionati molto a loro e ieri è nato Mattias tutto bene un parto tranquillo veloce per fortuna perché con Santiago invece che era nato prematuro c'erano stati dei problemi e qui è andato tutto bene è stato un parto normale tranquillo come un parto si spera possa essere sono appena andata in ospedale a trovarla ed è meraviglioso bellissimo lei un fiore cioè bella tranquilla bellissimo Mattias e i due fratellini che ovviamente erano su e quindi aspettiamo che ritornino a casa per fare così un grande benvenuto a questo piccolo dono che è arrivato anche un po' in mezzo a noi va bene io vi saluto spero che vi sia piaciuto così questo spacchettamento perché è bello comunque ricevere dei regali adesso si avvicina il mio compleanno e quindi già questo potrebbe essere un preludio dei miei regali e e nulla e soprattutto perché mi piace molto che delle persone a me sconosciute dal punto di vista fisico abbiano pensato a me per rendermi felice e questo mi ha reso veramente veramente felice io vi ringrazio vi saluto e con questo biglietto che ha una rosa faccio gli auguri a tutte le mamme anche se il giorno della festa della mamma era ieri ma non sono riuscita a registrare il video oppure per chi la festeggerà poi la domenica che sta arrivando quindi buona festa della mamma a tutti e figli e figlie ricordatevi che un pensiero alla vostra mamma ci deve sempre essere vi abbraccio vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao